Ci siamo rienti oggi qui al seminario di Galtanissetta con alcuni uffici regionali della conferenza episcopale siciliana, con l'osservatorio giuridico e con quello sociopolitico, perché abbiamo cercato di diffondere e di informare loro circa una serie di contatti istituzionali con gli enti regionali civici che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere, proprio per illustrare le modalità, pensare, inventare le modalità attraverso le quali noi cattolici siciliani vorremmo contribuire, fermentare, essere protagonisti nello sviluppo della nostra isola, anche per risollevarla da alcune sue contraddizioni e alcune sue difficoltà. Sono contento e ringrazio tutti coloro che sono venuti, tutti, nessuno escluso, perché si sono mostrati molto attenti e interessati e quindi potenzialmente adesso nella nuova sessione invernale con la conferenza episcopale siciliana, cioè con i Vescovi, discuteremo, amplieremo in modo da portare questi impulsi che stiamo cercando di dare da tutte le parti della Chiesa siciliana, trasferirlo a tutte le diocesi, a tutti gli uffici e via via cercare di prendere, intensificare i contatti con gli enti regionali, gli assessorati, l'Assemblea regionale, altre entità, fondazioni, per progettare, programmare e cercare di sviluppare davvero questa nostra terra. Andiamo verso il capire e prendere coscienza di come vogliamo essere, come vogliamo vivere da cattolici in questa isola, quale contributo vogliamo dare, noi Chiesa in cammino, in una terra che è anch'essa in cammino.